Leggiamo adesso, invece, vi dicevo, un brano tratto dalla traduzione dell'Iliade del Monti. Ecco, Monti non conosceva benissimo la lingua greca, pertanto diciamo che la sua traduzione non è una traduzione dal punto di vista filologico, ad esempio, particolarmente fedele all'originale. Foscolo, anche lui, fece una traduzione però solo di una parte dell'Iliade e lui, invece, era molto più fedele all'originale. Monti si propone un'opera di divulgazione, di mediazione di quel testo con la cultura e con il gusto contemporanei. Quindi, proprio nel caso della traduzione dell'Iliade, Monti riuscì a superare i limiti della sua ispirazione, limiti che abbiamo visto comunque un pochino anche nella poesia precedente, e di mettere a pieno frutto la sua eccezionale abilità diversificatore in un'opera che è una testimonianza alta e significativa, una delle più alte e significative del neoclassicismo italiano. La traduzione dell'Iliade e del Monti è probabilmente l'opera migliore di questo autore e poi di quest'opera noi prendiamo uno dei passi più famosi, cioè la traduzione dell'episodio di Ettore e di Andromaca. Quindi, prima di questi versi, ci sono quelli in cui si intavola il discorso, insomma, il dialogo fra Andromaca ed Ettore, nel quale si evidenzia la necessità per Ettore di andare a combattere per difendere l'onore, anche a costo di morire, già che il destino vuole che lui vada incontro alla morte. Così detto, però, dice a un certo punto, distese al caro figlio l'aperte braccia, Acuto mise un grido il bambinello e declinato il volto, si tratta, come vedete, di endecassilla bisciolti questi, e declinato il volto, tutto il nascose alla nudrice in seno, dalle fiere atterrito armi paterne, e dal cimiero che di chioma equine alto sull'elmo orribilmente ondeggia. Quindi, dopo aver parlato con Andromaca, Ettore vuole abbracciare il figlio Astianatte, però Astianatte mette un grido, è spaventato, è spaventatissimo, il volto è chinato, e nasconde anzi tutto quanto il volto alla nudrice in seno, quindi si rannicchia tutto quanto alla sua balia, la lancella che aveva accompagnato Andromaca portando il bambino, atterrito, quindi spaventatissimo, dalle paurose armi paterne, e dal cimiero, quindi dal pennacchio di criniera di cavallo, che ondeggia terrificante sulla cima dell'elmo, e di chioma equine appunto alto sull'elmo orribilmente ondeggia. Sorrise il genitore, quindi Ettore risponde tuttavia in modo estremamente umano, paterno, si mette a sorridere di fronte alla paura di Astianatte, e anche Andromaca condivide lo stesso sentimento del marito, la veneranda madre, appunto la madre venerabile, e dalla fronte l'intenerito eroe tosto si tolse l'elmo. Quindi Ettore si toglie subito l'elmo dalla fronte, se è stato quello il motivo della paura del figlio, e raggiante, quindi lampeggiante di riflessi metallici, corrusco, traducono altri, lo pose sul terreno. Anche un altro poeta di quest'epoca, Ippolito Pindemonte, di cui parleremo quando parleremo dei sepolcri di Ugo Foscolo, si cimenta in una traduzione dai testi omerici, in particolar modo traduce l'Odissea, e anche egli raggiunge dei livelli artistici notevoli, anche lui probabilmente forse più in quest'opera di traduzione che non in altre sue opere originali di poesia che invece non leggeremo. Ecco, abbiamo riportato qui l'inizio appunto di questa traduzione, l'inizio dell'Odissea, della traduzione dell'Odissea di Pindemonte, in cui si evidenziano appunto questi aspetti. Musa, quell'uomo di moltiforme ingegno, dimmi che molto errò, poiché ebbe a terra gittate di lion le sacre torri, che città vide molte, e delle genti l'indol conobbe, che sovresso il mare, molti dentro del corso offersi affanni, mentre a guardar la cara vita intende, e i suoi compagni a ricondurre, ma in danno ricondurre desiava i suoi compagni, che delle colpe lor tutti periro. Reggevo l'esempio, vi dicevo, di questa poesia neoclassica, è l'inizio dell'Odissea, in cui appunto c'è la protasi, pertanto, appunto traducendo nero, abbiamo la sintesi di questo uomo di moltiforme ingegno, quindi delle caratteristiche di Ulisse, insomma di Odisseo, sin dai primi versi dell'Odissea, l'ingegno moltiforme, il molto errare, dopo aver distrutto la rocca della città di Troia, che vide molte città, e conobbe l'indole, quindi gli usi, i costumi di molte popolazioni, è che attraverso il mare soffrì molte sofferenze, quindi molti travagli, mentre a guardare la caravita in tembe e i suoi compagni a ricondurre, mentre appunto è teso, tutto teso, a ritornare in patria e a riportare in patria anche i suoi compagni, ma in vano, perché i suoi compagni non ritorneranno sull'isola di Itaca e morirono tutti come punizione per le colpe di cui si erano macchiati.